Buongiorno, sono Simone Brandini Butti e sono un docente universitario e un formatore aziendale. Di cosa mi occupo? Di dinamiche relazionali, leadership, public speaking, comunicazione efficace, dare feedback, gestore dei collaboratori. Io dopo più di 25 anni d'esperienza mi sono accorto che nel mondo delle relazioni umane lavoriamo troppo poco. Se ci pensate noi siamo come tutti i mammiferi, animali dove la relazione sociale è fondamentale. Fin dalla nascita siamo attaccati al seno di nostra madre, poi in terminazione col padre, poi eventuali fratelli, amichetti, alla materna, all'asilo, elementari. Poi le medie inizia il mondo delle relazioni sessuali, quindi con l'altro sesso. E andando avanti così, compagni, compagni, fidanzati, mariti, mogli, figli, colleghi, capi, collaboratori, clienti. È un mondo di relazioni e sulle relazioni proprio la cosa sulla quale si lavora di meno. Sarebbe bello poter avere qualche strumento, qualcosa ci possa facilitare, aiutare a stare in questo mondo a volte così complicato. Ecco che proprio per questo arriva questo modello che ci può aiutare che si chiama proprio Brainbow, cervello arcobaleno, che è un modello che è come se fosse una specie di strumento di orientamento, no? Mi piace immaginare che il mondo delle relazioni sia una specie di grande giardino con le persone sparse qua e là e tu entri in relazione con le persone andando da loro. Ecco, Brainbow è uno strumento che ti dà delle indicazioni. Se vai in quella direzione per arrivare a quella persona la strada potrebbe essere più facile, potrebbe essere più efficace, la relazione potrebbe rimanere più stabile e duratura. Quindi non ti dici esattamente quella persona è fatta in quel modo, se dici così vinci. Questo sarebbe anche impossibile. Il mondo delle relazioni è un mondo molto complicato e complesso perché parliamo di esseri umani e ogni essere umano è diverso uno dall'altro. Brainbow invece è un qualcosa che è un'indicazione. La prima fase è fare un test che ti dice che, di che colore sei, potrebbe uscire se è un blu, se è un più giallo e blu, se è un verde, se è un verde rosso, se è un rosso più rosso e verde, che era dei colori. Dopodiché venendo in aula farete una formazione che vi darà delle istruzioni su, quindi guarda, tu sei così, quando entri in relazione con le persone cosa devi, appunto, orientarti in questo modo se vuoi essere più efficace. In che campi si può usare Brainbow? A Brainbow è uno strumento molto duttile perché relazione, appunto, è tutto intorno a noi. È stato usato, perché ormai ha più di dodici anni di presenza nel campo italiano, il campo della formazione, è stato utilizzato, per esempio, da molti medici per migliorare la relazione con il paziente, oppure è stato usato da, diciamo, rette vendite per migliorare la relazione con il cliente, è stato usato per migliorare le dinamiche di gruppo all'interno dei gruppi di lavoro. Ancora viene utilizzato, per esempio, proprio come team building, come quindi nelle convention aziendali viene utilizzato per migliorare le dinamiche anche su platee molto numerose e grandi, proprio che è un modello che si adatta facilmente a vari contesti, da un'aula di sei persone a un'aula di sei cento. Diciamo che funziona, perché è un modello molto duttile ed è anche molto divertente erogarlo. Se siete interessati vi invito a prendere maggiori informazioni sul modello Brainbow. Vi ringrazio.